Ciao a tutti, sono Raffaele Tomelli, sono sviluppo di sviluppo globale di DataLogic. Oggi, in SPS Nürburgring, stiamo mostrando l'interazione tra un operatore umano e un robot industriale in condizioni di 100% di sicurezza. Il prodotto di DataLogic è il modello di SPS Nürburgring di SPS Nürburgring. La funzione di questo prodotto è la possibilità di collegare un gruppo di unità di SPS Nürburgring per fare una cella di sicurezza di 100% di sicurezza in una zona di lavoro di lavoro. Come potete vedere, abbiamo un robot industriale, abbastanza grande, che si muove da una parte a un'altra. Mentre il robot sta lavorando da un'altra parte, in realtà il robot è da un'altra parte, l'operatore può entrare e controllare la parte del lavoro di lavoro dall'altra parte, in questo caso l'altra parte. Quindi potete vedere che entriamo da un'altra parte e lavorando in una condizione totalmente di sicurezza. Se ho provato di entrare da un'altra parte dove il robot sta lavorando, vedete che il robot sarà bloccato dal sentinello laser. Quindi potete vedere che il sentinello è bloccando il robot, proteggendo il operatore umano. Mentre il robot si muove da parte a parte, il sentinello protegge l'area in fronte del robot, evitando qualsiasi tipo di accesso. il robot è generato un'altra parte che si può evitare che nessuno si può capire il robot con la mano. Potete vedere. E come potete vedere, il robot è stoppato. Il DataLogic continuamente migliora i prodotti in modo da dare una soluzione 100% di sicurezza per ogni tipo di applicazione industriale specialmente nelle cellule robotiche e nelle zone robotiche.